Thomas Cupis, finalmente il Novara. Thomas, quali sono le tue primissime impressioni da giocatore azzurro? Ciao a tutti. Prime impressioni? Non sono ancora tanti perché non ho visto giocatori, non ho visto mister, ho visto direttore. Sono contento con questo che lui ha detto quando abbiamo parlato al sede del Chievo. Sei là di una stagione importante con la maglia del Brescia in Serie B. Ti aspetta un'altra stagione all'insegna dell'ambizione, del coraggio e della voglia di fare. Cosa ti aspetti da questa nuova avventura Novara? Certo, sono arrivato da Brescia perché l'ultimo stagione l'ho fatto là. Sono contento e ringrazio tanto per quello che mi ha dato tutta la società. Sono contento di questo periodo là e quando sono arrivato contentissimo perché voglio fare ancora di più, voglio fare più alto con Novara e voglio andare in Serie A. Ti sentirai a casa quanto prima, contribuirà a questo anche mister Boscaglia e parte del suo staff? Certo, è arrivato anche mister e quello ha fatto grande parte per me per arrivare qua a Novara. È una domanda abbastanza delicata, questa da fare però conoscendo il mister, conoscendo il suo modo di giocare, come ti vedi in campo con lui? Come mi vedo? Io stavo giocando tutte le partite a Brescia con il mister quando potevo giocare e io lo vedo perfetto perché è il modulo che preferisce lui e è il mio modulo, per questo sono contento. Insomma, benvenuto al Novara Thomas, se vuoi guardare la telecamera e fare un saluto ai nostri tifosi. Saluto a tutti, ciao!